Non ho mai visto uno squalo così da vicino, prima d'ora. Se è davvero uno squalo, qualunque cosa sia, dobbiamo allontanarlo dalla spiaggia. Lancia queste esche con il tuo cannone ad acqua. Lanciale il più lontano possibile. Cannone ad acqua! Lo squalo non gradisce le esche. Che strano. Prova ancora. Si dirige verso la spiaggia. Skye, controlla che sulla spiaggia non ci sia più nessuno. Ricevuto, Ryder. E il premio per la scultura di sabbia più bella oggi va a... Me! Per me! Gattini, cosa state facendo? Dovete allontanarli dalla spiaggia e da me! E me! Ora si allontana di nuovo dalla spiaggia. Credo che dovrebbe fermarsi e chiedere indicazioni. Adesso si sta immergendo! Non possiamo perdere le sue tracce ora, Rocky. Usa il tuo veicolo subacqueo e vai a cercare quella creatura. Chase, vai con Rocky. Poi immergiti per dare un'occhiata da vicino. Agli ultimi, Ryder! Lo vedo sotto di noi. Che tipo di squalo ha le ruote? Il tipo che non è un vero pesce. Ora vado a controllare. Oh, luci! Un momento. Sembra che ci sia qualcuno dentro. Solo i... Gattini... I gattini della squadra gattastrofe. Proprio loro. Ryder, cosa ci fanno i gattini dentro uno squalo meccanico? Deve essere un altro di quelli sciocchi piani del sindaco Hamdinger. Che probabilmente è qui da qualche parte. Veramente lo vedo sulla spiaggia. Sono stato avvistato! Si sarà nascosto quando sono andati via tutti. Oh, oh. L'acqua sta entrando dentro il sommergibile. Dobbiamo riportarlo in superficie. Ma che cosa state combinando, gattini? Oh no, Ryder! Lo squalo meccanico è impazzito! Lo fermeremo, Zuma. Serve il tuo aiuto sulla spiaggia. Sky, il sindaco Hamdinger sta per avere un po' di compagnia. Sindaco Hamdinger! Lo squalo si dirige verso di lei! Oh, oh. Fermi! Gattini! Aiuto! Arriviamo, sindaco! Sono pronto, Ryder! Oh, ma cos'è andato storto nel mio piano per evacuare la spiaggia? Io non capisco! Sky, usa la pala del tuo aereo per salvare il sindaco Hamdinger. Pala! Preso! Oh, oh. Preso! Zuma, ferma quello squalo. Forte! Non avevo mai pescato sulla spiaggia prima d'ora. Grazie per il telo, sindaco Hamdinger. È il minimo che potesse fare dopo averci spaventato. Oh, e non sta per caso dimenticando qualcuno, sindaco? Oh, oh. Grazie per aver salvato la nostra giornata sulla spiaggia. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Abbiamo anche trovato un nuovo uso per lo squalo meccanico. Yippee! Papanee! Papanee! Pa, 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 Simuri! Papanee!